Pesaro 2024 si fa capitale italiana della cultura del dono, grazie all'evento di Avis Donor Week, previsto in calendario dal 13 al 15 settembre. Si tratta di una tre giorni di musica, spettacoli e divertimento dedicata alla cultura della donazione del sangue e a quella della cura delle persone, dall'omaggio a Rossini allo show di Giovanni Cacioppo, passando per convegni, pedalate e concerti. Ringraziamo Avis Nazionale che ha ideato questo format nelle capitali della cultura, quindi sarà una tre giorni Donor Weekend 2024, piena di eventi, di convegni con formazione e informazione, di spettacoli e di cultura. L'intento è quello di promuovere la donazione di sangue, saranno affrontati diversi temi, tra cui il sociale e il digitale, i giovani nel mondo del volontariato e appunto la cultura della donazione e la sua promozione. Saranno eventi aperti a tutti, quindi è ingresso libero, è gratuito, ci saranno spettacoli, concerti, spettacolo comico. Si aprirà venerdì 13 settembre con un'inaugurazione, con un omaggio a Giochini Rossini, il nostro celebre compositore, con pianoforte e voci liriche. Se il tempo lo permetterà, in Piazza del Popolo, quindi alle 18.30, e seguiranno altri spettacoli, tra cui sabato sera alle 21, uno spettacolo comico di Giovanni Cacioppo, sempre in Piazza alle 21, sempre ingresso libero, e per finire domenica sera con una pedalata nella famosa Bicipolitana Pesarese, che poi costeggerà anche il litorale, per ritornare in Piazza del Popolo, con questa pedalata dedicata al nostro Franco Revelli, segretario di Avis Pesaro, mancato l'anno scorso, proprio il 15 di settembre, giorno in cui faremo questo memorial. In questi eventi noi saremo presenti con i nostri banchetti, quindi daremo informazione sulla donazione e i donatori pesaresi e i cittadini pesaresi potranno anche prenotare la visita di donità per diventare donatori. Informeremo di quanto sia importante la donazione di sangue, e quanto sia importante diventare donatori, perché con un semplice gesto si possono salvare delle vite, delle vite umane. Già si parla di aggancio con Agrigento, che sarà la prossima città della cultura, quindi ormai credo che sia un evento partito ed è ovviamente molto importante perché ci permette di fare promozione a un livello eccezionale, insomma, in tutta Italia ogni anno a questo punto. Lo dicevo prima, è la prima volta che ci ritroviamo tutte le Avis insieme, anche se ovviamente dobbiamo dire che noi siamo un Avis, punto e basta, è solo un'organizzazione a livelli differenziati. Comunque per le Marche, ovviamente in questo caso per le Marche, per la provincia, per la città di Pesaro, è un grande evento, è una grande possibilità di diffondere il messaggio del dono. È un'altra giornata molto importante, di approfondimenti, come avete detto, ma anche, diciamo, di festa, perché è una festa per la comunità pesarese, è una festa per i cittadini, è una festa per Avis, è un momento in cui si parla di questi temi, si parla anche alla cittadinanza, perché il nostro obiettivo è quello di arrivare a più cittadini possibile per accrescere il già numerosissimo numero di volontari che fanno questo gesto bellissimo, che è quello del dono di sangue e di plasma.